Gentili telespettatori, buona giornata. In questi giorni c'è il caso oscurati, diciamo che ogni 2-3 giorni c'è un caso nuovo in Italia. Ecco, avete visto lo scrittore invitato su Rai 3 con un monologo sul 25 aprile dove in pratica questo monologo, la prima metà parlava della seconda guerra mondiale il 25 aprile e poi si collegava con il governo attuale che praticamente sono i fascisti che sono arrivati a Roma eletti dal popolo, cioè sono tornati i fascisti al governo sotto falso nome, Fratelli d'Italia invece che PNF, Partito Nazionale Fascista. Gli yes men, un po' superficialotti che ci sono in Rai, gli yes men meloniani messi lì dal governo, come dice la legge italiana di fatta dal PD e da Renzi, questi yes men un po' superficialotti non hanno capito che adesso ci pensiamo noi, censuriamo questo qua? Eh sì, lo avete censurato ma lo avete reso un idolo indiscusso della sinistra, il suo monologo lo hanno ripetuto in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili e quindi perché vi dico yes men superficialotti? Perché ci vuole un po' di sale in zucca, non basta essere yes men per sapersi comportare, lo yes men con cervello prima di fare qualcosa mette sulla bilancia, quello che farò farà più danno o farà invece magari più, o farà un favore? Ecco quindi la censura che vado a fare sarà un favore per meloni o sarà un danno per meloni? Ecco uno yes men che si rispetti deve fare un minimo di valutazione e purtroppo viviamo nel mondo dei superficialotti, ma che cos'è lo yes men? Sono quelli che adulano i capi, tu sei il brassimo, tu sei il più bello, il più intelligente, il più bravo? Girano intorno perché poi puntano a qualche posto importante. Allora andiamo avanti, lo scrittore dopo essere stato censurato in maniera superficialotta dagli yes men meluniani, ci va giù, è il suo momento adesso, adesso lui carica sulla cosa e dice mi hanno disegnato un bersaglio in fronte, trattato come un estorsore? Ho paura, paura eh? Ha paura, secondo me non ha paura, secondo me non ha paura, sta montando su, sta facendo la sceneggiata, la scena madre, no? La scena madre, ho paura, bersaglio, è il suo momento perché da adesso in poi potrebbe avere tante belle ospitate e tirar su qualche soldino perché io non conosco la parte economica di questo scrittore, non ho idea se uno che è un milionario come Saviano, non lo so se una persona che magari economicamente ha delle difficoltà o magari vende bene i suoi libri e sta benissimo, molto meglio di me, non lo so, parlo così, però adesso fare la tragedia greca per lui significa pubblicità per i suoi libri, indiscussa, perché anche chi non lo conosceva dice scrittore cosa ha scritto, aspetta che compro il suo libro, quindi sicuramente avrà in questi giorni un'impennata delle vendite e più fa la tragedia, più fa la sceneggiata e più libri vende, più ospitate avrà e più soldi fatturerà, quindi è il suo momento, è il magic moment di Scurati che dice ho paura, mi hanno disegnato un bersaglio trattato come un estorsore e naturalmente lui adesso ci mangia su, su questa cosa qua, dice mi sono innervosito dopo che sono stato costretto a fare una replica in seguito al post di Meloni, perché la Meloni cosa dice? La Meloni dice su Facebook, allora vi metto io il post, dice la Meloni, questo è quello che voleva dire Scurati, io non ho mai censurato nessuno, anche perché sono sempre stata io censurata il RAI, figuratevi se adesso mi metto a censurare qualcuno, ovviamente lei non ha censurato nessuno, sono gli yes men superficialotti che vi dicevo prima che l'hanno fatto, senza neanche rendersi conto delle conseguenze, per questo che vi dico superficialotti. A questo punto la Meloni però dice, certo non si possono utilizzare i soldi dei contribuenti per fare propaganda, 1800-2000 euro per fare propaganda a spese dei contribuenti dello Stato, e allora lui si è innervosito perché dice, ma quale propaganda, come se io fossi andato a estorcere soldi alla RAI quando la RAI era già d'accordo con me, il mio manager era già d'accordo con i funzionari della RAI e avevamo già individuato l'albergo, il treno, era tutto a posto, poi quando hanno letto il mio intervento hanno cancellato tutto, gli aggiungo io, gli yes men superficialotti, e così lui dice, mi sono ritrovato al centro di una polemica politico-ideologica accanita, spietata e fatta di attacchi personali denigratori che mi dipingono come un profittatore, quasi come un estorsore. Allora lui parla di polemica politico-ideologica accanita, però il suo intervento era un intervento politico-ideologico accanito, cioè lui si sta lamentando che stanno facendo con lui quello che lui stava facendo con la Meloni, quindi lui faceva una polemica politica-ideologica accanita contro la Meloni fascista, adesso la polemica la fanno contro di lui, politica ideologica accanita e si lamenta. Questo è il problema di quelli che stanno a sinistra spesso di questi intellettuali, insultano, Saviano, Canfra, insultano con parolacce, vengono portati a processo e poi fanno le vittime. Io, povero intellettuale col bastoncino, che mi portano in tribunale, come? Cosa avrò detto mai? Ha insultato, quindi fanno i poverini quando vengono portati in tribunale, ma quando c'è da insultare non sono mica dei poverini, gli viene molto facile l'insulto, l'offesa e la denigrazione. E lui dice, come vi dicevo prima, adesso fa la vittima perché gli serve, ma io non polemizzo con nessuno, non aggredisco mentalmente e verbalmente nessuno, all'improvviso mi ritrovo al centro di una polemica per aver fatto lo scrittore. È stato duro, faticoso, doloroso. Sono un privato cittadino che legge e scrive libri. Ma va là, scurati, sei uno scrittore, un ideologo di sinistra che quando ti hanno chiamato il RAI hai voluto fare il tuo monologo contro il governo, dandogli dei fascisti, eccetera, eccetera. Quindi fare adesso il poverino, sono un privato cittadino che scrive libri, io non ce l'ho con nessuno, io non polemizzo con nessuno, non aggredisco mentalmente e verbalmente nessuno, ma ha detto al presidente del consiglio che è un fascista, come quello che c'era nel 1940. Ecco, insomma, fanno le vittime, io non ce l'ho con nessuno, però quella è una fascista. Ascurati, dai che è il tuo momento e vendi un po' di libri in più. Anch'io vendo libri, anch'io ho scritto e vendo libri, a me non mi si fila nessuno, non mi chiama nessuno per fare un monologo contro Schlein in RAI, no? Vabbè, insomma, arrivederci a tutti.